Ciao Tias, quanto è stata importante la fiducia che ha dato nei tuoi confronti il Parma per farti venire qui e magari se ti sei anche scambiato due parole con il tuo connazionale Turk, che è un giocatore proprio nella rosa del Parma e con cui condividi l'Under 21 slovena. Sì, quando ho sentito che mi vuole Parma ero felicissimo, perché è un gran club con tanta storia e tutto però ho visto anche che mi volevano tanto, questo mi ha aiutato per dire sì perché erano quasi 20 giorni con Vicenza per, come si dice? Grattative, quindi ho visto che proprio mi volevano tanto e questo era proprio il punto sui che voglio arrivare qua. Sì, ho parlato anche con Turk, mi ha detto tutto positivo, tutto bene, quindi niente problemi per arrivare qua. Il Parma da un paio di stagioni è diventato una società multiculturale, possiamo dire, con tante lingue. Il mister Pecchia credo che prediliga la lingua del calcio, tu come ti sei inserito in questo gruppo sia a livello di affinità con i tuoi compagni, peraltro molto giovani, sia anche a livello di idee del mister, appunto dicevi ti confronti con la lingua inglese e col mister invece? No, con il mister parlo italiano, ho capito tutto anche con il mister di calcio, mi piace perché giochiamo tanto con gli esterni e io gioco esterno alto, quindi mi piace quando sei in gioco e tocchi tante palle, quindi le idee di mister mi piacciono, quindi se lavoriamo bene vediamo in campionato come va. Senti, il Parma ha fatto un paio di stagioni dove di fatto acquistava quasi soltanto giovani. Quest'anno la politica è un po' cambiata e ha preso anche giocatori d'esperienza e forse tu sei l'unico giovane di punta arrivato fino ad ora, aspettandoci sono ancora due mesi, quindi magari il direttore sportivo ci darà degli altri. È una responsabilità in più però? No, non sento tanta responsabilità perché l'età non cambia niente. Una volta quando sei in prima squadra sono tutti uguali, se hai 33 anni o 12, quindi sono tutti uguali e quando sei qua siamo tutti lo stessi e non sento pressing, come si dice. Guardate qua un secondo il direttore. Ho detto quanti io, Andrea. E una mea un po' buona. Rennon, mi ha avuto un po' buon. Devo prendere un giocatore più piccolo di me che c'è sempre un giocatore in mano. Facciamo una adesso con la stretta di mano il direttore e Iasch. Una stretta di mano. Sì, guardate qua. No, guardate qua, guardate qua. Dovete essere felici. Ok, nessuna da Fiasch d'Assodio. Allora, un secondo. Faccio fare due passi avanti, un attimo. Ok, ancora. Fai un po' di cose strette, Giacomo, così le usiamo come copertura magari. Che dettaglio, se ti serve. Ok, questa è stata di quata. Solo una, tanto. T'emaggia un po'. Così lo copriamo per Skydon. Aspetta, faccio qui. Faccio un'altra, scusa. Faccio l'ultima, va bene Fabri? Vai. Ultima. Fanni una. Ok, vieni avanti. Vai, l'ultima è mai. Va bene. Grazie. Grazie. Grazie.